Ciao a tutti, buongiorno e ben ritrovati sul canale, buon lunedì pomeriggio ormai. Oggi parliamo di Nathan Never, più nello specifico dell'ultimo numero della serie regolare del personaggio, il numero 359 intitolato Ritorno nel Multiverso, che potete vedere con questa copertina di Sergio Giardo, celebrativa. Voi sapete che nel mese dell'ottantennale Bonelli tutte le copertine presentano, tutte le copertine delle maggiori testate Bonelli in edicola questo mese presentano la medesima situazione nella copertina, ovvero l'eroe, in questo caso Nathan Never, in primo piano, ripreso in una tipica posa, lo sfondo orizzontale, la striscia orizzontale alle spalle che ne riproduce il tipico sfondo e questa tinta unita che domina tutto il resto della copertina, in questo caso un blu elettrico. in regalo con questo numero la medaglia celebrativa del personaggio, che io trovo veramente bruttina, questa è secondo me la peggiore fra le medaglie che finora mi sono state rifilate nei vari albi Bonelli, è un disegno veramente bruttino, sul retro della medaglia presente il logo degli 80 anni della Bonelli che tanto conosciamo, che ormai ben conosciamo. Dunque, questo albo, sceleggiato da Beppi Vigna, che è anche l'autore del soggetto, e disegnato da Giez, ovvero, o meglio, Giez, G-I-E-Z, con, appunto, copertina di Sergio Giardo, non mi è per niente piaciuto. Scusate la schiettezza, ma io fin da subito ve lo dico, io questo albo proprio non ve lo consiglio, e cercherò di spiegarvi le motivazioni. Come suggerisce anche il titolo Ritorno nel Multiverso, abbiamo a che fare con l'ennesimo ritorno di Casabonelli, in questo caso ritorna la squadra di scienziati che avevamo conosciuto nel numero 300 della serie regolare di Nathan Never, ovvero Altri Mondi. Numero questo che era celebrativo, ovvero il trecentesimo numero di Nathan Never, e quindi tutto a colori, disegnato da Roberto De Angelis, uno dei copertinisti della testata tra Castellini e Giardo, che presentava una storia molto interessante, molto ben fatta, molto ben disegnata, magnificamente colorata da Francesca Piscitelli, di cui questa storia, attualmente in edicola, ne è il seguito, secondo me seguito fatto male. In questo numero ritornano i professori Brom e De Brolle, mi pare si chiami così De Brolle, con i loro relativi assistenti, Priepkin e Dana, che coinvolgeranno Nathan Never nel recupero di un manufatto, di un aggeggio, di un oggetto cilindrico, dalle particolari proprietà tecnologiche, rinvenuto in un'antica epoca. Nathan Never dovrà nuovamente rimettersi in contatto con il professor Brom, tra l'altro sarà contattato da Dana, come potete vedere in queste immagini, in una maniera tremendamente simile, direi quasi identica al modo in cui era stato contattato nell'albo originale, e dovrà quindi rimettersi a vagare per i vari multiversi, quindi per le varie configurazioni, diciamo, che fungono da collante, potremmo dire, per questa avventura. si ritornerà anche a Tempo Zero, che è questa particolare dimensione, diciamo, da cui si diramano tutte le varie configurazioni, controllate da questi esseri extraterrestri, una storia che non mi ha per nulla convinto, perché ripercorre in maniera del tutto simile gli avvenimenti della prima storia, tant'è che compaiono addirittura dei flashback che ci riportano all'inizio dell'avventura originale, addirittura alcune vignette, sono veramente ridisegnate, ci sono persino le stesse identiche inquadrature, quindi è come se stessimo assistendo ad un riassunto, diciamo, della precedente avventura, e per il resto è una storia, secondo me, piuttosto noiosa, piuttosto confusa, i disegni non aiutano, i disegni sono appunto di Gietz, io non conosco questo artista, ma questi disegni a me non hanno per nulla fatto impazzire, è uno stile, secondo me, analogico, non penso proprio che siano disegni realizzati in digitale, credo che siano realizzati alla vecchia maniera, se mi consentite il termine, però c'è qualcosa veramente che non mi convince in questi disegni, forse è l'inchiostrazione, a non piacermi più di tanto, però io li trovo dei disegni veramente confusi, anziché facilitare la lettura, secondo me la complicano, il tratto, a mio parere, non è esaltante, non sono disegni sui quali mi sono soffermato volontariamente, sono dei disegni in cui mi sono involontariamente soffermato, più che altro perché in alcuni punti veramente mi risultavano troppo confusi, troppo carichi, non lo so, forse c'è un problema con l'inchiostrazione, però non li trovo dei disegni di immediata lettura, quindi non mi hanno per nulla soddisfatto, anche in questo caso si citano altri personaggi, altre testate della Sergio Bonelli editore, perché è chiaro che Nathan Never spostandosi per i vari multiversi entra in contatto con universi tipici di altri personaggi Bonelli, così come era stato per il numero originale, e sì, la storia in questo caso inizia nella Londra contemporanea, come potete vedere, quindi riferimento a Dylan Dogg, anche se qua Dylan Dogg non è esplicitamente citato, si va a toccare l'Amazzonia degli anni 50 con un espresso riferimento a Mr. No, a Jerry Drake, e poi si finisce addirittura nel Far West, dove il professor Brom è indeciso se contattare o meno, se mettersi o meno in contatto con un certo Carson, soprannominato Satanasso, dal suo fraterno amico, quindi è chiaro che il riferimento a Tex è palese. Nathan lo vediamo alle prese con La scura di Zagor, che era stata protagonista, diciamo, anche del precedente numero di Nathan Never, non del precedente numero, del numero originale di Nathan Never, il 300. Il professor Brom era entrato in contatto con Zagor, come possiamo vedere da queste pagine, e si era portato a spasso alla scura per tutta la durata dell'albo, e io, a conti fatti, fra queste due avventure, anziché consigliarvi di andare in edicola a comprare questa, io piuttosto vi consiglierei di attivarvi in qualche modo per recuperare questa, che secondo me è molto meglio svolta, è ben fatta, è ben disegnata, è ben colorata, ha una storia interessante. Questa, invece, non so quanto senso possa avere, oltretutto ritorniamo sempre al solito problema che io avevo già evidenziato su Zagor, il problema dei ritorni. Anche in questo caso, una storia come questa può essere compresa e apprezzata da chi ha letto quest'altra storia. Un lettore, una persona, insomma, che non conosce l'avventura originale, io non so quanto possa gradire questa storia, quindi ritorniamo sempre allo stesso identico punto. I ritorni, secondo me, non sono mai una buona scelta. Tutto questo sempre fa ritornare questi vecchi personaggi, queste vecchie ambientazioni, queste vecchie storie, queste vecchie citazioni, a me non convince minimamente. Sarà che io non sono un esperto incredibile della Sergio Bonelli di Tore, perché molte testate, anzi quasi tutte le testate Bonelli, sono partite quando io ancora non ero nato, compreso Nathan Nefer, per cui è chiaro che io non conosco, non ho letto e neppure ho intenzione di leggermi tutti gli albi di tutte le serie di tutte le testate Bonelli, però, non lo so, non la giudico una scelta adatta, una scelta giusta, una scelta convincente. In questo caso io il numero originale l'avevo anche letto, il numero 300 l'avevo recuperato in un mercatino qualche anno fa, questo è un numero del 2016, se non vado errato, sia del 2016, però, pur avendo letto l'originale, a me questa storia non ha detto proprio niente, secondo me non aggiunge nulla alle dinamiche, diciamo, create da Vigna nella storia di partenza, è tutto un voler ripetere, un voler ricordare, un voler riavventurarsi su sentieri che, secondo me, sono stati tracciati meglio nell'avventura originale. I disegni non mi hanno fatto per nulla impazzire, vi faccio vedere nuovamente qualche tavola, sono disegni, secondo me, se mi è permesso, non vorrei mancare di rispetto, ma secondo me sono disegni un po' pasticciati, soprattutto per quanto riguarda l'inchiostrazione. Nella parte finale dell'albo Nathan Never arriverà persino sulla stazione spaziale internazionale del ventunesimo secolo, quindi lo vedremo in veste di astronauta, forse anche un po' per riagganciarsi al cartonato che era uscito qualche tempo fa che io non avevo non avevo non avevo comprato. Per cui, questo è il mio parere estremamente personale sull'albo in questione. Io sono curioso di conoscere la vostra idea perché magari ad alcuni lettori ben più esperti di me, circa Nathan Never, questo albo può essere che sia piaciuto. Io sarei anche contento che a qualcuno sia piaciuto. Fatemi sapere la vostra opinione in merito qualora lo abbiate comprato, lo abbiate acquistato, lo abbiate letto. Fatemi sapere che cosa ne pensate e insomma parliamone insieme. Se ne avrete voglia io sarò felice di ascoltare, leggere, insomma, e rispondere i vostri pareri a riguardo. Per il resto io vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon proseguimento di lunedì pomeriggio. Ci rivedremo a voi piacendo nel prossimo video dove parleremo probabilmente di un altro fumetto. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao. Ciao.